Davvero marcando streffissime e in mezzo anche sono state incrociate da Shining e da tutte le altre barche molto più piccole. Questo come avete detto è lo spettacolo della Bargolana. Il vento appunto qui nel golfo è un po' più forte che a terra, sta soffiando con raffiche che toccano anche i venti nodi e proprio in questo momento Alfa Romeo sta facendo... La Bargolana è un po' più grande, è un po' più grande. La Bargolana è un po' più grande, è un po' più grande, è un po' più grande, è un po' più grande. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.